Salve a tutti da Giussi. Come sappiamo stiamo attraversando un brutto periodo non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. Nel frattempo cerchiamo di passarci il tempo cucinando, guardando la tv, ma l'importante è rimanere a casa. Quindi io oggi ho preparato una torta all'arancia. Andiamo a preparare. Iniziamo col preriscaldare il forno a 180 gradi. Nel boccale metto una buccia di arancia, 200 grammi di zucchero di canna, azione il bimbi, 10 secondi, velocità 10. Riunisco sul fondo. Aggiungo 90 grammi di succo d'arancia, 45 grammi di olio di semi di girasole, 300 grammi di yogurt bianco senza lattosio, un pizzico di sale, 250 grammi di farina 00, una bustina di lievito per dolci. Azione il bimbi, 50 secondi, velocità 4. Spruzzo lo staccante nella tortiera e verso il composto nella tortiera. decora con delle fette di arancia e spolverizzo con dello zucchero di canna. metto in forno per 30-35 minuti. Facciamo la prova a stecchino. La torta è pronta, l'ho lasciata raffreddare completamente. Mi taglio un pezzo. Un bel pezzo. E' morbidissimo. La mia torta all'arancia è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao. Vi raccomando, stiamo tutti in casa. Ciao e alla prossima.